essere qui, lo dico anzitutto a chi è seduto da questa parte alla mia sinistra e poi naturalmente anche a voi che avete raccolto questo invito a partecipare a questa diciamo tavola rotonda un po' informale in un contesto in qualche modo inusuale perché dopo due anni circa di pandemia in effetti ritrovarsi qui in un posto come questo mi suona un po' strano devo dire no mi sento e si sentiva la mancanza quindi sono contento personalmente di essere qui anche come federazione italiana pubblici esercizi non vedevamo l'ora di ripartire anche con con questo con queste questi eventi questi queste manifestazioni allora intanto vado al sodo e devo prego bene bene allora questo c'è il siamo qui però siamo anche online siamo sul canale youtube quindi andiamo dietro a questa cosa poi verrà ovviamente registrata anche per la vostra utilità se volete utilizzarla allora dicevo che dopo un anno e mezzo forse anche più fa strano come si dice a roma essere essere qui in un contesto come questo riparte anche una manifestazione come host dopo una assenza molto lunga e devo dire ecco personalmente sono contento anche come federazione italiana pubblici esercizi siamo contenti di essere presente di riprendere un cammino che si è interrotto diversi mesi or sono oggi credo che ci sia abbastanza gente ci sono le misure di sicurezza per cui c'è una coda per entrare il green pass il rilevamento della temperatura e così via quindi molte persone stanno ancora accodate fuori dal dai tornelli ecco siamo qui quest'anno la fipe ha scelto come concept di questa presenza ad host il tema della transizione digitale dell'innovazione tecnologica perché spesso si pensa che le attività tradizionali non si occupino di innovazione di digitalizzazione e parlo di ovviamente attività come la ristorazione il mondo dell'intrattenimento sono attività tradizionali che devono fare dei passi molto importanti in tema di digitalizzazione credo che la pandemia se dobbiamo guardare il bicchiere anche un mezzo pieno ed è difficile guardarlo mezzo pieno in una tragedia come quella che abbiamo vissuto ha però portato una spinta sul terreno della digitalizzazione molte imprese hanno dovuto fare di necessità virtù nel senso che non potevano fare nient'altro che ad esempio il delivery si sono cimentate con il delivery con le prenotazioni online con gli ordini con le piattaforme alcune anche gestendole improprio quindi è stata c'è stata un'accelerazione però sappiamo che ancora ci sono tante aziende che devono fare un passaggio da questo punto di vista c'è un'indagine fatta lo scorso anno durante la seconda ondata dall'istat che dice che molte aziende relativamente parlando hanno fatto un passaggio in termini di pagamenti digitali e anche su diciamo in tema di commercio elettronico e per esempio nel nostro caso è il delivery però sono ancora tante quelle che per esempio non hanno sistemi di pagamento digitale non hanno casse che possono consentire anche la gestione dell'attività che non sono soltanto uno strumento di pagamento allora io vado subito al dunque il tema oggi è un tema molto ambizioso pagamenti digitali smart post perché sono gli smart i post di ultima generazione poi anche le cosiddette casse evolute non so se c'è un termine più tecnico per definirle e anche queste le smart cash non lo so come 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 definirle e vi presento subito chi è qui con noi allora parto da 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 giù senza rispettare l'ordine di diciamo i la corsia preferenziale di genere è paolo chierigatti che è di oracle oracle è un'azienda che tutti credo conosciate come 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 nome devo dire quando l'ho incontrato qualche tempo fa non pensavo che oracle si occupasse anche del mondo del food and beverage invece so che hanno una diciamo linea dedicata al mondo del della ristorazione e del fuori casa dell'oreca in generale e quindi paolo benvenuto poi beatrice beani che non si occupa di tecnologia ma di ristorazione ed è del di un'azienda di ristorazione che nasce a parma se non sbaglio si chiama cuore colacu cuore italiano ecco poi magari ci dirai anche ci dirai tu come come vi siete organizzati un'azienda che sta crescendo a diverse attività ormai quindi deve gestire anche la complessità che è una complessità di gestione proprio dell'attività delle persone l'organizzazione del lavoro l'organizzazione degli spazi eccetera eccetera quindi anche i rapporti con i clienti molto veloci al centro c'è vanessa maneo di nexi nexi anche è un nome che anch'esso a tutti noto anche da da utenti sicuramente è la pay tech credo di poter dire che siete leader in italia forse non so in europa e se siete a buon punto per arrivare sui pagamenti digitali ma poi ci dirà anche altro poi rania e chiedo scusa rania perché rania frances sempre di cuore tutti occupi soprattutto di controllo di gestione quindi il tema è questo no la cassa il controllo di gestione è uno strumento per gaetano de maio di samap cassa e si chiama vi chiamavate tiller una volta qualche poco poco tempo fa no ovviamente è conosciuta in questo caso stiamo parlando soprattutto di di sistemi di casse di geste di casse evolute o non diciamo non o no non lo so insomma ci sono diversi strumenti allora io voglio soltanto citarvi qualche numero perché poi partirò proprio da te vanessa allora noi abbiamo 3,6 milioni di pos installati in italia più 139 per cento in dieci anni abbiamo 60 pos all'incirca ogni mille abitanti il doppio della media europea facciamo abbiamo 75 milioni di carte carte di credito e debito spero di non aver sbagliato a prendere i numeri 210 miliardi di spesa nel 2020 stiamo parlando del 2020 quindi è un anno un po diciamo non non vediamo se ha lasciato il segno 3,7 miliardi di transazioni con una spesa media intorno tra i 54 se sono carte di debito 54 euro e 65 se sono carte di credito ecco però abbiamo 3,6 milioni di post installati appunto una media altissima e abbiamo 62 transazioni pro capite in italia che è meno della metà della media europea allora questo dobbiamo capire dove sta il corto circuito no di questi di questi all'interno di questi numeri sono cattivi gli esercenti hanno una scarsa propensione all'uso delle carte i clienti c'è il tema delle commissioni c'è il tema dell'infrastruttura c'è il tema dei costi da cosa dipende ecco magari vanessa partirei da te che hai un osservatorio privilegiato per dire dove sta il punto critico perché io non vorrei lo dico con chiarezza a me non piace che venga fuori ma tu poi ovviamente sei libera di dire quello che vuoi però io non credo che il problema o la responsabilità sia sempre da una parte e le cose hanno diversi profili che si intrecciano e noi dobbiamo capire come sciogliere i nodi per fare un passo avanti vai ma io non penso che il profilo del pagatore italiano sia un pagatore poco evoluto un pagatore pigro un pagatore che ha particolarmente paura di usare il pagamento digitale chiaramente noi abbiamo una tradizione una cultura che fino adesso ha ci ha portato ad utilizzare molto più il contante o strumenti di pagamento tradizionali d'altra parte l'abbiamo visto il coved e poi riconfermato anche in questo rapporto post coved ha veramente portato un'accelerazione importante nel mondo dei pagamenti digitali se pensate fino a due anni fa pagare il caffè con la carta di credito nei bar in tutta italia era una cosa impensabile oggi abbiamo proprio visto che è diventato una realtà forzata sicuramente dalla situazione che ci ha imposto di evitare il contatto di non creare assemblamenti di cercare soluzioni di pagamento anche più igieniche che però sta portando il nostro paese più verso a dati a medie europee noi abbiamo stiamo osservando anche insieme al Politecnico di Milano che ha appena pubblicato il loro osservatorio sui pagamenti come il trend che è iniziato quindi questa crescita molto forte sulla digitalizzazione del pagamento già nel 2020 si riconferma nel 2021 e si riconferma anche in quelle proiezioni che non sono negative che quindi ipotizzano una nuova chiusura ma che effettivamente vedono la ripresa quindi tu dici il fenomeno è stato congiunturale diciamo contingente può diventare strutturale però io prendo spunto da una tua considerazione il pagamento del caffè della tazzina di caffè allora devi farci capire una cosa perché questo qui non è chiaro non è chiaro se noi parliamo con i nostri i nostri imprenditori piccoli medi sopra poi la maggior parte sono piccoli no piccoli imprenditori ci dicono ma io non posso far pagare un caffè no con la carta perché su un euro non posso pagare non tanto una commissione in percentuale quanto un costo fisso di transazione perché quel costo fisso diventa no assorbe tutto il margine allora ci fai capire questa cosa del micropagamenti no non si pagano nexi che cosa fa e ci sono anche delle misure di supporto no degli incentivi su questo se è vero o e questa è la prima la seconda il pagamento è lento no si fa la coda eccetera sono vere queste cose sono luoghi comuni e come facciamo perdonami nel caso in cui fossero luoghi comuni a come dire disperderli a farli a diradarli sul primo tema sicuramente mi aggancio sempre alla tematica un po culturale che non riguarda sempre solo il pagatore ma anche l'esercente abbiamo visto che c'era più difficoltà a diciamo a far penetrare a far attecchire il pagamento soprattutto laddove c'era il piccolo importo che sicuramente per abitudine il cliente pagava con la monetina e l'esercente chiaramente non suggeriva di pagare in modo elettronico per questo nexi negli ultimi negli ultimi anni ha proposto una un'iniziativa sui micropagamenti che consente ai nostri esercenti ai nostri professionisti di avere una promozione quindi di non pagare le commissioni sui piccoli importi quindi tutti gli importi fino ai 10 euro possono essere esenti quindi non pagheranno le commissioni proprio per instaurare un'abitudine positiva non avere questo scoglio anche mentale da parte degli esercenti e favorire proprio un'abitudine di consumo a tutto tondo che quindi non dia più il distinguo no alla piccola somma la pago col cash la grande somma invece posso pagarla con carta aiutando anche probabilmente in questo periodo che abbiamo vissuto a appunto a battere la barriera e garantire l'utilizzo massivo del pagamento digitale su tutte le tipologie di acquisto ecco poi ovviamente abbiamo il tempo per girare però torno ancora da te poi ritorniamo su altre cose una domanda che può sembrare all'apparenza banale perché e qui dillo anche al di là di nexi no perché alla fine l'obiettivo è il pagamento digitale perché i soldi non sono più buoni dove dove sta perché che cosa perché c'è questo trend quali sono le motivazioni forti che spingono verso il rafforzamento di questo trend dal tuo punto di vista ma sicuramente c'è un tema di sicurezza che è legato al mondo dei pagamenti digitali che dall'altra parte si regge si legge sui temi di rischi legati alla gestione del contante pensate all'esercente che deve comunque gestire un cassetto di cassa con dei contanti gestire poi appunto diciamo l'incasso a fine giornata andarlo a portare in banca e quindi sicuramente quel tema viene in parte risolto c'è un tema di rapidità dei pagamenti e c'è un tema di comodità quindi io non devo continuamente prelevare sa meno poi gestire magari un minore contante il portafoglio e quindi anche un rischio minore per il consumatore e avere uno strumento che mi aiuta nelle mie spese che chiaramente è digitale, è immediato, è comodo e poi oggi anche con i nuovi strumenti che l'innovazione ha aggiunto alle nostre opzioni di pagamento perché non parlo solo delle carte parlo dei wearable quindi parlo degli smartphone abbiamo la possibilità laddove non abbiamo il contante di avere sempre un'alternativa e un'opzione di pagamento quindi questo sicuramente c'è anche un tema di praticità e di comodità Ok, poi torniamo sul discorso, magari parliamo di Nexi e la cosa importante è che bisogna risolvere in qualche modo in parte risolta tutto il tema dei codici io sono rimasto per esempio con un'esperienza banale, ero convinto che un codice fosse il codice per il pagamento l'ho digitato due volte, mi hanno bloccato la carta ma non capivo, pensavo no e quindi abbiamo una serie di codici da dover ricordare che diventa veramente a volte molto pesante Beatrice a te, ecco è acceso perché poi passiamo ora gestire l'innovazione, la digitalizzazione, come entra dentro un'attività di ristorazione che è di per sé un'attività tradizionale, si fa da mangiare, si servono dei clienti ai tavoli a cosa serve la digitalizzazione? Non tanto dal punto di vista, e poi direi anche qualcosa magari sui pagamenti mentre poi passerei a Rania per dire che cosa, gli strumenti di cassa, che cosa possono fare per aiutare l'impresa a essere gestita meglio? Guarda, noi ci facciamo molto guidare dall'esigenza del cliente, nel senso se un cliente, se il cliente soprattutto fedele, abituale, che noi abbiamo in tanti punti vendita, sollecito, richiede una tipologia di pagamento, conosciamo tanto spesso Satispay, abbiamo avuto un altro canale, non so se conoscete It's Ready, insomma diverse piattaforme, è normale che noi ci attiviamo, in primis per soddisfarlo perché se non lo soddisfiamo magari non lo troviamo più il giorno seguente, molto spesso però soddisfarlo significa costi, perché commissioni, costi di attivazione, costi di gestione, anche solo se io quantificassi le ore che una persona di ufficio mi dedica a una quadratura piuttosto che al recupero di una differenza, è importante. Poi tutto ciò che è digitale per noi è preferenziale, come diceva appunto poco fa, è un tema di sicurezza, quindi il contante, c'è la banconota falsa, il tema del versamento, i tempi di versamento, anche il stesso dipendente si sente più sicuro perché la carta quando ti dà l'esito positivo il pagamento è effettuato, il contante una volta ritirato fino al versamento passa il tempo, quindi un tema di sicurezza per noi come azienda, per il dipendente indubbiamente e io penso anche per il cliente perché sa che è andato a buon fine il suo pagamento senza nessun problema, o se c'è stato un problema hai comunque un canale per rimediare. Ecco, dal tuo osservatorio i clienti di cuore e dei format di cui poi ci dirai, magari siamo curiosi di capire, come si comportano, che propensione hanno all'uso del pagamento digitale? Sulle bassi imparti, bassissimo, vengono con la moneta, i 5 euro, lo so per certo perché il manager spesso chiede la moneta da essere integrata. Eppure da voi ci sono tutti gli strumenti per pagare digitalmente, quindi non c'è come dire l'impresa che cerca di scoraggiare il pagamento digitale. No, noi non diamo limiti, non diamo vincoli, anche se il tema commissioni c'è, esiste e il nostro interlocutore è la banca, è come avere un muro, quindi su quello non abbiamo assolutamente forza. Ti chiedo quanto pagate di commissioni perché magari sarà il tema di un'altra puntata, poi ne parliamo con gli amici in un'altra occasione, però insomma tu dici questo è in qualche modo che oggi non si può fare a meno, ha di dare al cliente la possibilità di pagare come vuole, secondo di utilizzare gli strumenti digitali e elettronici per avere il controllo dell'impresa. Assolutamente, per fare un altro esempio, uscendo dal settore post o mondo nexi, anche tutto il tema dei buoni pasto elettronici, non esiste più il cartaceo, quindi il cartaceo sta scomparendo, stiamo cambiando tutti i terminali perché hanno introdotto tutti i terminali innovativi che permette di dematerializzare, di accelerare, di avere della reportistica, anche da quel punto di vista siamo quasi costretti a volte a avere quasi una stazione aerospaziale con 4-5 post, però devi averli, sempre per soddisfare il cliente, poi magari incassi un ticket, ma serve. Ecco qui c'è poi stai toccando un tema molto delicato che è quello dei buoni pasto dove ogni emettitore vuole emettere il suo post, per ragioni che riusciamo a comprendere ma non a giustificare ovviamente e questo crea una serie di problemi, mi pare però che ormai ci sono soluzioni molto avanti per avere la gestione con un post unico di tutto, si tratta soltanto di avere un rapporto corretto con l'emettitore che non impone il proprio post altrimenti di far pagare una commissione esagerata. Ecco io passerei e poi vado dagli amici che si occupano di gestionali più che altro a Rania, intanto voi vivete insieme, possiamo usare lo stesso microfono, perché questi strumenti che Cuore usa, la vostra azienda usa, perché ti aiutano a gestire meglio l'azienda? Dal mio punto di vista, da quello che devo fare io, quindi in controllo e gestione di tutti i dati che mi arrivano, ovviamente la digitalizzazione mi permette di avere un margine di errore pari a zero. Posso vedere come quando faccio i controlli, un format di alto livello come al mercato, dove lo scontrino medio è molto più alto e la maggior parte dei clienti pagano con post e lì l'errore è quasi zero. Mentre con altri format che sono, cioè con Cuore, dove ci sono i bar e così, quindi le persone appunto arrivano con monete e con tanti e lì troviamo degli errori nel controllo. Ma il tuo controllo è soltanto dal punto di vista, diciamo, contabile economico o c'è un controllo attraverso questi strumenti, non sto parlando adesso di pagamenti digitali, stiamo andando in un'altra dimensione, ti consente di capire anche come funziona, come gira l'attività, dal punto di vista delle vendite, di cosa si vende all'interno del locale o tu ti occupi soltanto della parte economica? Per la digitazione dei post ovviamente parte economica, per le casse ovviamente si può vedere tutto quello che è venduto, cosa va di più, cosa va di meno. Come lo gestite? Giorno per giorno fate dei report mensili dove fate il punto e andate a vedere che cosa sta funzionando, che cosa non sta funzionando e questo vi facilita anche, penso, è una domanda che faccio, nella gestione, nell'utilizzo della leva del prezzo, quando dovete decidere se è opportuno ritoccare i prezzi dove vanno ritoccati. Adesso per esempio, ecco vi faccio una domanda, a proposito, non andiamo fuori tema, ci sono tensioni sui prezzi in questo momento nella ristorazione, negli acquisti? Purtroppo sì, ovviamente con le cause Covid sono aumentati tutti i costi dei fornitori e quindi il margine di guadagno diminuisce e decidi o andare avanti così oppure aumentare i prezzi. E voi che farete se è possibile, se ve lo posso chiedere? Siete tentati di aumentare? avete paura? Pensate che ci sia una reazione? Dobbiamo ancora valutare, per il momento non sappiamo. Ok, allora adesso per comodità però c'era un altro microfono per piacere, eccolo. Allora passo a Gaetano De Maio di Samap Cassa, poi per dire quali... Magari prima della domanda, io c'avevo perché era molto interessante la parte riguardante i pagamenti, perché noi come Samap siamo anche quasi leader nel settore dei pagamenti e uno dei punti interessanti è magari legato anche a un aspetto che magari non viene toccato molto spesso che è il nero, molti esercenti non vogliono avere contanti per fare nero e questa cosa qua per esempio va a diminuire di parecchio la necessità di avere, anzi la volontà di avere molto contanti, quindi mantenere questo perché c'è poco controllo e quant'altro. Noi come in Samap quello che stiamo facendo è cercare di dare trasparenza. Diciamo Gaetano è chiaro che questo qui sta in casa della federazione dei pubblici esercizi, noi rappresentiamo le imprese, quelle imprese che teoricamente farebbero il nero, sappiamo che il nero in Italia monta l'economia sommersa a 200 miliardi di euro e con tutta la buona volontà bar e ristoranti se ce la mettessero tutta non li farebbero 200 miliardi, diciamo che è un fenomeno abbastanza trasversale, c'è l'evasione, c'è l'illusione dal punto di vista fiscale, sappiamo che ci sono tecniche molto raffinate per gestire i bilanci delle aziende dove magari si nascondono le cose sotto il tappeto, però è evidente che se noi dovessimo andare da un esercente usando questa leva faremo un buco nell'acqua perché se io vado ad un esercente e gli dico tu devi andare verso la digitalizzazione dei pagamenti eccetera perché così superiamo il problema del nero, se fosse questo il problema non riusciremo, allora dobbiamo trovare sicuramente un'altra leva. Ecco io però, perdonami, insisto su un punto, qui ci sono due aspetti, uno è il pagamento digitale, l'altro è avere degli strumenti che consentono, aiutano a gestire l'azienda, ad avere il controllo delle vendite, ad avere il controllo di che cosa bisogna muovere come dicevo prima quando bisogna ritoccare i prezzi perché i prezzi sono ricavi, quantità per prezzo uguale ricavi. Allora questo qui, io vorrei affrontare questo tema perché credo personalmente, questa è una mia idea, che lo snodo stia qui, c'è un elemento che è quello di andare incontro al cliente per facilitarlo nel pagamento eccetera. Poi c'è un aspetto di gestione dell'impresa, se io non ho gli analytics per capire come va l'azienda, io non capisco allora le vendite, devo avere lo strumento che in tempo reale, e poi magari farò il report settimanale, mensile, ogni 15 giorni, devo sapere che cosa ho venduto e che cosa non sta funzionando. Allora gli strumenti, ciò che voi avete aiuta a fare queste cose qui o è soltanto una variante della cassa che c'è oggi in un qualsiasi locale? Allora no, questo è il tema principale per noi, noi almeno con la cassa quello che abbiamo fatto è al di là di una user experience molto molto facile, quello che facciamo è proprio abbiamo creato uno strumento molto simile a Google Analytics, quindi quello che Google Analytics fa per gli e-commerce, quindi per l'online l'abbiamo traslato nella parte offline, quindi sostanzialmente, ed è questo pure un discorso legato poi al nero e quant'altro, perché noi creiamo un sistema di efficienza, efficienza significa dati, 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 perché la ristorazione è solo dati, cioè tu devi capire, noi diamo questa disposizione con la soluzione di questa map cassa, cosa vendi, cosa non vendi, marginalità su ogni prodotto, tutto quello che è in venduto, quindi è un piccolo collegamento anche col magazzino, la ristorazione fondamentalmente da A alla Z è solo dati, quindi il ristoratore magari vecchio stile che guarda semplicemente dell'atteggiamento del so tutto io, faccio tutto io, so quello che vendo, so quello che non vendo, secondo me, quel ristoratore là è destinato un po' a cedere un po' il passo, almeno la nostra clientela, quelli che vengono da noi sono un ristoratore, imprenditori, imprenditori. Che profilo hanno? Se dovessi disegnare il profilo del cliente che utilizza la vostra tecnologia, che profilo è? Intanto che tipo sono ristoranti, che tipo di struttura hanno? Sono giovani? Non sono giovani? Ecco, ci puoi, perché questo è importante, perché io aggiungo una cosa, i dati sono necessari, però poi bisogna anche leggerli i dati e bisogna avere la testa e il tempo per leggerli, se uno li accumula e poi non ha il tempo per andare a vederli perché in una piccola azienda non ci sono le funzioni dedicate, pensate magari non a cuore dove c'è chi fa controllo di gestione, che si occupa di organizzazione o da fassi, a cui poi ti chiederò una cosa, che è più strutturata, una piccola azienda, magari il titolare, di solito c'è il commercialista che gli sbriga, ma non è che il commercialista può essere chiamato ogni settimana a gestire le cose, non è il suo mestiere, fa un'altra cosa. Ecco, che profilo c'è? Come cliente tipo, da noi, se dovessi pensare a chi utilizza Samacassa e si avvicina molto a noi, è un imprenditore che magari viene da un'altra tipologia di settore, vuole aprire un ristorante, però sa la necessità di vedere in continuazione tutto l'andamento senza passare tramite il commercialista, cioè l'imprenditore che dice ok, cosa vendo, quanti piatti di spaghetti al sugo vendo oggi, quanti ne devo comprare domani in base a quella che è la domanda di ieri, ogni martedì quanti ne vendo, ogni mercoledì quanti ne vendo, quindi è una continuazione di prendere decisioni però sensate, basate su quello che è il trend storico e quindi proiettate nel futuro. Tu vedi un trend positivo su questo? Noi siamo... Su l'uso di queste attrezzature, questo hardware, questo software? È hardware e software, è quello che vediamo noi e soprattutto post-covid spinto dalla necessità di... Adesso la parola digitalizzazione è un po' on hype, no? Allora è tutto digitale, digitalizzazione, in realtà noi quello che facciamo al di là di digitalizzazione è creare efficienza, creare semplicità e creare possibilità di prendere decisioni in modo più veloce possibile. E quello che abbiamo visto noi è post-covid, noi abbiamo avuto un vero e proprio boom di richieste e quindi di nuovi clienti, cioè noi in un mese, adesso facciamo quello che prima, facciamo in un anno, quindi stiamo crescendo in maniera veramente esponenziale e stiamo vedendo che è proprio... Anche i clienti stanno cambiando perché stanno capendo che non possono più sprecare cibo, non possono più... La ristorazione di prese sta cambiando, i clienti stanno cambiando come richieste, quindi c'è bisogno di avere tutto sotto controllo. Quello che facciamo noi è una soluzione a tutto tondo, quindi avere sempre tutto sotto controllo, non ci può essere più inefficienza. Torno da te, grazie intanto. Paolo, per ultimo, ma non ultimo, mi metto di qua. Oracle è un grande nome nel mondo del software, nel mondo della gestione dei dati, tutti conosciamo Oracle come grande organizzatore di grandi quantità di dati. Adesso qui stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di sistemi di casse evolute in qualche modo. Ecco, ci puoi raccontare anche te, perché Samap Cassa ha parlato di un certo profilo di clienti. Io ho visto le vostre soluzioni, peraltro sono applicate, l'ho vista all'interno di un'azienda, sono soluzioni molto sofisticate, ma di qualità, ovviamente richiedono anche una competenza per gestire, poi magari saranno anche molto semplici, ce lo spieghi te, magari. Certo, grazie Luciano. Sì, confermo, Oracle è leader di mercato per quanto riguarda il mondo food and beverage, ha una divisione specializzata all'interno di Oracle che si occupa esattamente di questo e noi abbiamo clienti importanti in Italia come anche all'estero, chiaramente. Il nostro profilo di clienti, per rispondere alle tue domande, è abbastanza eterogeno. Questo vuol dire che con la nostra soluzione in cloud possiamo sia accompagnare l'imprenditore che vuole partire con il singolo ristorante e quindi ha un'idea poi di sviluppo di catena per quanto riguarda dal primo punto vendita ai successivi, sia anche gruppi medio, medio-grandi di catene che vogliono avere una soluzione scalabile, integrata e soprattutto sicura. Per agganciarmi alla sua considerazione, quello che noi abbiamo visto nell'era post-covid è stata un'accelerazione sulla digitalizzazione che non è una buzzword, solo tecnologica. Vuol dire che i clienti oggi vanno ingaggiati diversamente, cioè vanno ingaggiati online, vanno ingaggiati via Facebook, devo dare ai clienti la possibilità di fare delivery, eventualmente o take away, devo dare ai clienti la possibilità di fare ordine in modalità self-service, devo ingaggiare i clienti in modalità diverse da quella tradizionale. Quindi devo avere un'infrastruttura che mi permette di fare questo. Quindi questo è un po' il salto di qualità che oggi i ristoratori sono chiamati ad affrontare. Perché? Perché il mercato è cambiato. Quindi tu mi stai dicendo che il vostro sistema di fatto non serve solo a gestire gli incassi, ma serve a fare una moltitudine di cose. Hai parlato di delivery, hai parlato di ingaggio dei clienti, quindi se fai delivery il menu digitale devi ingaggiarlo. probabilmente ci sono anche la possibilità di fare delle loyalty card, non lo so, sto chiedendo delle carte fedeltà per intenderci. E così via, ecco, questi sono strumenti che... E poi c'è tutto il tema del controllo di gestione dell'attività. Certo, devo ingaggiare il cliente in modalità... Diciamo, il passaparola funziona sempre, lo sappiamo benissimo. Quindi il ristorante tradizionale che funziona per oggi, il focus è ingaggiare nuovi clienti, clienti giovani che vogliono usare nuove tecnologie. E quindi io devo avere un sistema integrato che mi permette di fare questo. Vai, 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 continua. Il secondo tema è il delivery. Sappiamo bene che il delivery è, come dire, gioia e dolore per i ristoratori, in termini poi di commissione eccetera, però è un canale attraverso il quale i ristoratori, alcuni dei quali hanno scelto questa strada e chiaramente sono riusciti in qualche modo a compensare il calo di vendita durante il percorso di pandemia, ma questo tema rimarrà, questo canale di ingaggio rimarrà in modalità minimale su un 10, 15, 20%, ma rimane perché i clienti si sono abituati ad ingaggiare i ristoratori con questa modalità. E c'è un tema di controllo di gestione. Noi come Oracle abbiamo integrato le nostre tecnologie di analisi dei dati, quindi come sapete Oracle è leader di mercato nel mondo del database, quindi nella gestione del dato all'interno della nostra soluzione. Quindi quello che diceva il collega è correttissimo, cioè è necessario capire quali piatti vengono maggiormente venduti, qual è la marginalità sui piatti, quali piatti vengono venduti meno e dove perdo maggiormente all'interno della mia catena. Devo fare un'analisi in tempo reale, come dicevi tu. Non è più possibile aspettare una settimana. Ok, grazie Paolo. Poi torniamo, devo chiedere però ad Andrea Fassi, che è un imprenditore di Roma, è un brand conosciuto sicuramente ai romani, agli stranieri che visitano Roma, non so se è arrivato anche a Milano la gelateria Fassi in termini di conoscenza. Però, Andrea, nel 1880, quando è nata la gelateria Fassi con il tuo bis bis di nonno Giacomo, se ricordo bene, non c'era Nexi, non esisteva, Oracle forse non esisteva, Samap Cassa neppure, Cuore è nato nel 2012. Quindi, adesso, a parte la battuta, da allora, oggi, tu ritieni che quello che hai ascoltato, ritieni che sia, come dire, un punto irrinunciabile per gestire un'azienda, anche un'azienda monoprodotto di fatto, no? Come la gelateria Fassi, monoprodotto per modo di dire, cioè il gelato poi con tutte le varianti. Beh, sì, noi abbiamo anche 82 punti vendita in Corea del Sud e 4 in Cina. All'interno abbiamo software e abbiamo un sistema di gestione evoluto. Chiaramente l'attività a Roma è una e assorbe circa 2.000-2.500 persone al giorno. E la mia idea è stata quella di inserire un software già da qui, cioè già da Roma. E chiaramente è il futuro. Io aprirò dei punti vendita tra Roma e Milano di pasticcerie fredde dove non ci sarà il pagamento cash. Questo nell'arco del 2021. Ah, proprio eliminato. Adesso non dite con chi farai la partnership, però. Non lo dite perché rispetto... In Corea, ad esempio, abbiamo un pagamento con carta di credito del 68%. I anni sono all'avanguardia. A Roma, prima della pandemia, del 28%. Dopo la pandemia, del 34%. Io ho un software interno che mi permette di capire questi dati. Quindi sì, è il futuro. Poi dal 1880 qualche altra evoluzione c'è stata. Però è l'unica, credo, strada percorribile. Pensate, scusate, un aneddoto che tutto nasce con la genera Fassi per un paio di baffi, non come i miei. Eh sì, perché il mio bisnonno era un pasticcere. Dovete tagliare i baffi a casa reale perché non si potevano portare i baffi se non si erano obili. Quindi taglio i baffi per un'attività da solo. È una storia bella. Grazie, Andrea. Grazie, Andrea. Quindi questa è la conferma non solo guardando al di fuori dei confini nazionali di quello che è il trend. È chiaro che la Corea è un paese che sulla tecnologia c'ha tutto da insegnarci, no? Sono molto avanti però il 68% ho capito bene i pagamenti digitali noi siamo da te al 34% siamo sicuramente molto più giù. Allora adesso torno a Vanessa per dire due cose. La prima è come se io sono un ristoratore un ristoratore devo risolvere una serie di problemi adesso ci sono gli smart post che fanno gli smart post? Cioè sono casse sono solo strumenti di pagamento c'è la fattura digitale per la trasmissione telematica lo scontrino scusa per la trasmissione che cosa fanno? Pago o fanno anche altro? Perché questo qui bisogna ragionare su queste cose spesso non c'è conoscenza Noi Nexi abbiamo diverse linee di prodotto e chiaramente quella più potenziale è la linea degli smart post per noi lo smart post è un post evoluto e quindi è uno strumento che non consente solo di accettare il pagamento ma abilita tutta una serie di funzionalità che troviamo proprio nello strumento che possiamo usare dal pezzo di ferro proprio perché utilizzando un sistema Android ospita un marketplace delle applicazioni che aiutano l'esercente a svolgere le attività quotidiane che a seconda dell'attività possono essere diverse per noi è chiaro che è necessario andare ad offrire tutta una serie di servizi che sono più legati al mondo del pagamento pensiamo alla possibilità in questo momento alla necessità di riportare i clienti nel punto vendita quindi di fare programmi loyalty di emettere scontistica pensiamo alla possibilità di consentire ai clienti di come dicevamo prima di pagare sempre come vogliono quindi non vuoi pagare col post ti mando un link di pagamento te lo attivo direttamente dal post in modo tale che tu possa pagare anche se non sei presente ma magari mi stai ordinando il piatto al telefono e io chiaramente ti abilito una modalità di pagamento a distanza ci sono poi delle applicazioni che aiutano a gestire il delivery le consegne e quindi ti aiutano anche a ingaggiare un servizio di trasporto e consegna a pagarlo direttamente dal post questo ci aiuta a farlo diventare veramente il punto unico di tutta una serie di attività importanti per l'attività la gamma smart post è particolarmente interessante perché prevede anche la soluzione cassa che in un'unica soluzione ti offre il post più il registratore telematico che ti consente poi tutto con lo smart post perché esatto nella soluzione smart post cassa hai la tua stampante fiscale che ti gestisce poi la trasmissione dei corrispettivi verso l'agenza delle entrate e quindi ti consente di avere un pacchetto unico particolarmente interessante secondo me come soluzione sul mercato perché noi non vendiamo la cassa la cassa è uno strumento comunque anche particolarmente costoso che richiede al ristoratore nel tuo esempio un investimento importante noi diciamo andiamo ad offrire la soluzione con un canone mensile e incluso nel canone hai appunto la cassa e anche tutti gli aggiornamenti software che la cassa richiede e pensate in questo momento storico quante evoluzioni ci sono state quanti aggiornamenti sono stati necessari e spesso per gli esercenti erano poi a pagamento per noi erano inclusi pensate all'adeguamento per la lotteria degli scontrini il nuovo XML 7 quindi poi immagino ci saranno anche tanti aggiornamenti futuri e anche tutte le revisioni fiscali periodiche che sono necessarie per manutenere uno strumento del genere sono incluse nel canone quindi di fatto tu come esercente ti prendi il pacchetto e hai tutto non hai molto spesso noi poi come dicevano prima cerchiamo di rendere le cose semplici all'esercente anche perché il pagamento è importante però non è il cuore dell'attività quindi anche là dove possiamo magari fare attività da remoto aggiornare software da remoto non facciamo uscire il tecnico per non rubare tempo quindi facciamo tutto noi insomma cerchiamo di dare servizio in un'unica soluzione prendi e hai tutto il pacchetto ovviamente con uno sconto un occhio di riguardo verso i soci Fipe naturalmente questo è scontato allora pensaci in futuro no a parte queste così diciamo cose fuori sacco una cosa in questi giorni è uscita una notizia curiosa sulle mance le mance nei ristoranti tutto nasce da una sentenza della Cassazione per un capo ricevimento di un noto albergo della Costa Smeralda a cui hanno trovato 84 mila euro in mance versate sul suo conto corrente ovviamente non c'era scritto mance lui ha detto che erano mance che erano frutto della sua attività e quindi delle mance ecco qui c'è adesso al di là del problema tassazione la gestione della mancia attraverso gli strumenti digitali come può essere fatta perché dovete sapere che esiste un problema un problema di allineamento tra la fattura o la ricevuta del servizio e la transazione se il cliente lascia una mancia sulla transazione digitale questa non è allineata alla ricevuta noi abbiamo casi di aziende sanzionate dall'agenzia delle entrate o dalla guardia di finanza perché hanno sostenuto che non ci fosse una transazione a fronte di quella ricevuta perché non erano coincidenti i valori sopra c'era una mancia ma non c'era scritto mancia c'era 100 euro 105 100 euro la ricevuta 105 la transazione dove sta la ricevuta da 105 euro allora al netto dei problemi fiscali se dovranno essere tassate non tassate dal punto di vista diciamo della gestione della transazione come si può risolvere questo problema oggi è già risolto c'è una voce in cui io posso dire mancia e va a parte va su un canale guarda sì proprio con questa gamma di strumenti evoluti noi siamo riusciti a dare all'esercente la possibilità di tracciare le mance quindi distinguere dal transato normale dalla spesa normale sempre tramite una funzionalità della nostra app di pagamento noi consentiamo all'esercente di impostare la richiesta verso il consumatore di appunto lasciare una mancia quindi ogni volta che il cliente paga gli viene chiesto direttamente allo strumento se vuole lasciare una mancia e a quel punto l'esercente può o preimpostare degli importi per velocizzare il pagamento sempre per non rallentare poi il flusso di cassa ma comunque l'esercente il cliente è libero di non lasciare la mancia o lasciare un importo che poi deciderà la cosa interessante è che chiaramente anche i nostri sistemi vivono poi su le basi dati il recap delle transazioni e a livello poi appunto di lista delle transazioni l'esercente è poi il ristoratore e vedrà proprio il dettaglio di ciò che è transato dell'attività differenziato dal totale mance perfetto e tra l'altro la cosa interessante è che il totale mance può essere poi filtrato e visto oltre che chiaramente in base al periodo temporale interesse anche differenziato sull'utente che ha registrato la transazione perfetto però qui si pone un altro problema per cui vi invito a fare una riflessione su questo perché è un tema delicato nel momento in cui la mancia transa attraverso il POS e quindi va sul conto corrente dell'impresa di fatto entra nella disponibilità dell'impresa quindi dal punto di vista fiscale quello è un ricavo dell'impresa che deve essere sottoposto a tassazione quindi io vi invito anche su questo tutti voi che vi occupate di pagamenti di casse a fare una riflessione perché è vero che tecnicamente si può fare ma se non si risolve il problema a monte se io metto in cassa 3.000 euro di mance perché ci possono stare in un'attività forse anche di più a volte dipende dai dipendenti quanti sono quei 3.000 euro sono dell'impresa poi l'imprenditore è vero che non li tiene li dà ai propri dipendenti se è corretto ovviamente ma su quello ci deve pagare le tasse perché non è più una mancia giusto l'ultimo spunto devo darlo al dipendente come glielo do? punto perché non esiste il concetto di mancia nella busta paga quindi manca anche quel pezzo finale come glielo riconosco? questi taglielo fuori sacco di fatto diventa questo discorso di una cosa che non è nero ma diventa nero poi quindi è veramente questo è un problema sembra banale ma non lo è affatto quindi è una cosa su cui secondo me dobbiamo riflettere perché rischiamo di indurre anche lo stesso imprenditore a commettere un errore che è quello di acquisire di fare entrare sul proprio conto corrente dei soldi che poi magari non pensa di doverli dichiarare perché giustamente pensa che non sono i suoi un'altra cosa importante e qui mi rivolgo in modo diciamo urbi e torbi fino agli imprenditori gestire le transazioni digitali i pagamenti digitali vuol dire anche essere trasparenti nei confronti del sistema bancario e quindi vuol dire anche poter avere maggiore facilità di accesso al credito nel momento in cui la banca vede qual è il giro d'affari di un'azienda per cui riesci questo lo dico perché nei nostri rapporti con istituti di credito e poi voi lo sapete che vi occupate di questo è uno dei punti che viene messo sempre all'attenzione cioè se la banca riesce ad avere contezza di quello o attraverso i bilanci o attraverso i flussi finanziari che vengono generati da un'azienda la banca ovviamente ha la possibilità di potersi muovere con maggiore maggiore libertà bene adesso un altro passo ancora a Gaetano per dire che programmi avete dove volete arrivare con questi vostri sistemi allora è una domanda complessa perché quello che facciamo noi è seguire la tecnologia vedere per esempio lui parlava di Corea 68% di pagamenti una cosa che andiamo a fare nelle prossime tre o quattro settimane è cambiare un po' questo nel breve termine è cambiare totalmente il paradigma della cassa di per sé vecchio stile tra tre settimane quello che facciamo è lanciare mettiamo l'esperienza al ristorante il cliente si siede c'è un QR code la persona vede il digital menu quindi il menu digitale dopodiché manda l'ordine direttamente in cassa quindi non c'è il cameriere che viene da te ma sei tu che vai direttamente in cucina a dare l'ordine e la terza cosa è che paghi direttamente al tavolo quindi attraverso il QR code e quindi c'è il pagamento che arriva direttamente là quindi tendenzialmente si va a tagliare totalmente un po' i livelli di camerieri che vengono e prendono l'ordine magari fanno provano a vendere altro però proviamo a tagliare per alcuni ristoranti questo va bene ecco questo mi premeva a chiederti tu pensi ovviamente è una soluzione che funziona in alcuni ristoranti potrebbe non essere quella adatta in altri ristoranti è un po' questo il tema principale che facciamo noi cioè noi quello che cerchiamo di fare è coniugare soluzioni per diverse tipologie dei ristoranti noi ad esempio abbiamo dark kitchen che non sono ristoranti non hanno nessuna relazione con un cliente finale fanno solo delivery di cibo e noi ce ne abbiamo tanti come clienti di ghost kitchen quindi ma quante ce ne stanno in Italia? stanno aumentando sempre di più stanno arrivando catene noi ce ne abbiamo un cliente che è partito con noi due anni fa e adesso ha il quindicesimo punto vendita dislocato in sei città diverse e sta crescendo sempre di più il tema della delivery è molto forte sta crescendo sempre di più prende una fascia di mercato che magari rimane un po' di più a casa e quindi vuole ma è sempre un delivery fatto da hamburger pizza eccetera o sta cambiando tendenzialmente almeno parti con le cose basiche però quello che facciamo noi con Samacassa è vedere in qualsiasi minuto quello che vendi in qualsiasi ora o a livello giornaliero se vedi che è estate vendi gelati se vedi che vanno di più hamburger vendi di più hamburger quindi dati che ti danno l'idea di quello di cui massimizzare come che obiettivi avete per il 2022 come crescita noi al momento stiamo crescendo 40% mese su mese e poi pensiamo di continuare in questo trend qua quindi poi diventa un po' più esponenziale che comunque stiamo investendo man mano che si cresce credo che un'azienda come Nexi se facesse il 40% mese su un mese sarebbe una cosa una cosa vi danno un super premio che ti danno l'azienda noi siamo partiti più piccolini chiaramente però col fatto che c'è stata l'acquisizione quindi siamo effettivamente sum up cerchiamo di creare risoluzione unica per pagamenti cassa in un'unica soluzione quindi noi siamo locali totalmente cashless voi pensate naturalmente che questo settore della ristorazione sia fortemente resiliente dopo la botta presa nel 2020 primo semestre 2021 però riprende a gonfie vele i ristoratori non mollano mai questo abbiamo notato ma soprattutto i clienti proprio dopo il covid ci hanno voglia di uscire ci hanno voglia di divertirsi ci hanno voglia di andare al ristorante e quindi secondo me c'è il boom totale perfetto Paolo a te e poi ci avviamo magari con un ultimo giro velocissimo se avete da aggiungere qualcosa queste soluzioni di Oracle secondo te che tipo di azienda devi avere per adottarle perché possano funzionare perché qui il punto è uno e qui perdonami un po' la provocazione ma in senso buono noi dobbiamo mettere dentro le aziende delle cose che poi vengano utilizzate perché se non vengono utilizzate diventa un boomerang è come fare i karakiri nel senso che poi dice io ho messo quella cosa va bene però non la uso quindi non serve ma forse non va bene per me oppure non la so usare ecco dimmi tu che tipo di divisione hai su questo allora il nostro cliente target è un cliente che ha un approccio innovativo al mercato e che quindi vuole spingere in termini di innovazione non importa se sia una catena o anche singolo ristorante noi abbiamo clienti singoli ristoranti che sfruttano al meglio la tecnologia a disposizione basta che abbiano un approccio un po' innovativo insomma chiaramente come dicevamo anche in qualche chiacchierata fatta assieme serve un po' un salto culturale dal punto di vista di approccio alla ristorazione non di taglio classico dove c'è il fiuto dell'imprenditore che si accogge se le cose vanno o non vanno qui serve quindi un approccio più sistematico di analisi dei dati in modo tale da avere poi dei fondamenti su cui poi costruire in termini futuri poi a maggior ragione chi ha un'idea di catena e quindi vuole partire su un singolo punto vendita e quindi scalare molto velocemente per aprire il secondo il terzo il quarto e così via anche perché noi in termini di novità abbiamo appena annunciato una cloud region qui in Italia quindi Oracle ha annunciato ieri una cloud region in Italia come sapete le multinazionali non hanno delle cloud region in ciascun paese ma l'Italia avrà dal 15 di dicembre una regione cloud italiana in modo tale da sfruttare al massimo quello che sarà poi il piano il PNRR che andrà in qualche modo dovrà essere speso per cui parliamo di progetti e quindi anche i ristoratori potrebbero trarre beneficio da questi investimenti in termini di digitalizzazione perfetto ma tu ritieni alla luce di quello che dici che la formazione sia comunque un passaggio ineludibile cioè non c'è soltanto l'acquisizione dell'hardware del software c'è bisogno anche di un piano un progetto di formazione di supporto come quel salto culturale di cui parlavi sì assolutamente noi sempre proponiamo diciamo all'interno dei nostri progetti o micro progetti comunque un'attività di training e formazione fondamentale Beatrice voi fate formazione su queste cose qui all'interno dell'attività non eccessivamente nel senso nella necessità chi ci offre la soluzione in questo non è di manica larga assolutamente poi la collega che è lì in platea se ne occupa più di me di questo aspetto però nel momento in cui c'è da introdurre una nuova attività parliamo oggi della gestione degli inventari che vorremmo fargli seguire direttamente al sistema a quel punto si fa uscire un piccolo manuale si fa una riunione gli si forma gli si istruisce e si mette in pratica in modo molto abbastanza veloce ecco senti col Green Pass sta funzionando tutto bene con i dipendenti? sì a parte qualche Novax no tutto è molto gestibile non manca mai nel momento in cui c'è l'impegno del singolo tutto è gestibile quindi anche in caso di controlli è andato tutto per il meglio per il momento meno male Rania vuoi aggiungere qualcosa? una tua considerazione per chiudere poi passo a Gaetano e poi a Vanessa penso che abbia detto tutto Beatrice ma sui report sui report ci sono momenti in cui fate la condivisione a livello di team dei risultati? mensilmente facciamo i report per far rendere conto anche i nostri collaboratori sono coinvolti tutti? sì tutto il personale? i manager sicuramente che poi riferiscono riportano quanti siete voi in tutto nell'attività? 115-120 per il momento bocca al lupo bocca al lupo chi è il responsabile del personale? ad interim io pure il personale ad interim se tutto va in teoria dovrebbe entrare una persona perché siamo tanti poi abbiamo due form tre tre format diversi uno è cuore italiano e poi a luglio 2020 abbiamo acquisito al mercato non so se lo conosci poi abbiamo fatto tutto un rebranding adesso si chiama al mercato State & Burgers ne abbiamo due se qualcosa va in porto forse arriva il terzo vediamo e quello di Parma invece? Parma non c'è più ma siamo arrivati a Fidenza da dove abbiamo origine scusa ho sbagliato volevo dire avevamo Parma esatto chiuso dopo diversi anni perché solo uno su Parma non era gestibile e abbiamo preso un'attività a Fidenza appena uscita dall'autostrada che si chiama Autoprimo dove abbiamo mantenuto la vendita della bottega vendita di prodotti della zona piatti di cucina emiliana io poi sono nata lì quindi siamo tornati un po' allora è stato il cuore che ti ha portato lì sì è impegnativo perché sono quasi 2000 metri quadrati sì e vediamo poi se rivoluzionarlo quando l'avete aperto? il primo di agosto adesso? adesso ci hanno passato le chiavi abbiamo continuato l'attività non abbiamo fatto particolari interventi Gaetano un'ultima battuta in libertà ti voglio ringraziare per questa opportunità a tutti voi e niente è bello ritornare alla vita pseudo normale non essere più dietro al monito quella fisica alcune cose sono ancora belle fisiche non digitale grazie mille Vanessa a te in conclusione vi volevo ringraziare anch'io per chiudere io penso che parlo da consumatrice quindi non da dipendente Nexi oramai siamo abituati veramente ad essere fluidi a fare un po' tutto su tutti i canali a comprare in modo anche a volte disordinato però davvero seconda esigenza seconda occasione laddove abbiamo voglia in quel momento quindi secondo me la migliore risposta delle aziende sia in termini di pagamento che poi di business è mettere sul piatto dare ai consumatori tutte le opzioni poi tanto siamo noi che a seconda del momento dell'opportunità e di quello di cui abbiamo veramente voglia cogliamo l'occasione però l'importante è avere questo tipo di apertura questi incentivi 160 euro bonus fiscali bonus fiscali secondo te sono adeguati per affrontare i costi di queste infrastrutture? Beh io penso che siano un'ottima proposta nel momento in cui sappiamo che ancora tanti esercenti devono dotarsi di un registratore telematico e magari in questi anni non sono stati magari supportati o comunque non sono arrivati a questa scelta quindi sicuramente sono degli aiuti che come abbiamo visto ne parlavamo prima sui micropagamenti piano piano accompagnano i nostri esercenti verso delle soluzioni più evolute più complesse ma che sono effettivamente utili poi che la montare sia adeguato o meno questo è chiaro che lo valuteranno poi i consumatori però poi ci sono anche benefici di lungo termine che devono essere sempre valutati tra l'altro oltre al bonus fiscale abbiamo comunque il credito d'imposta quindi anche sulle commissioni che ovviamente vale soltanto per le imprese più piccole però comunque sono due aiuti importanti c'è una cosa sicuramente meritevole di attenzione noi facciamo grandi sforzi per poter arrivare a tutte le imprese nel comunicare queste informazioni pensate che noi e qui mi piace citarlo uno sforzo enorme fatto dal nostro ufficio legislativo peraltro apprezzato non solo dagli addetti lavori cioè da noi ma anche dagli uffici per esempio della Camera del Senato noi abbiamo fatto un quadro sinottico di tutte le misure di sostegno ai pubblici esercizi dall'inizio pandemia ad oggi viene aggiornato continuamente l'ultima edizione è di qualche giorno fa magari ve ne faccio avere una copia perché credo che sia molto molto interessante lì c'è una panoramica di tutte le misure in un modo molto semplice la misura il nome della misura la descrizione sintetica una riga lo stato dell'arte e che cosa fa e che cosa deve fare l'impresa per accedere a quella misura sono quattro colonnine molto snelle ed è una cosa super apprezzata magari troviamo il modo per farla conoscere anche agli imprenditori che perché spesso sono bombardati di informazioni e le mettono nel cassetto neanche le guardano purtroppo io vi ringrazio vi ringrazio per la disponibilità per gli spunti che avete fornito naturalmente questa cosa non si ferma qui è andata in diretta la liranceremo credo che sia un tema su cui tornare anche per occasioni di webinar di incontri a volte anche fisici speriamo di poterli fare a breve perché secondo me è un punto da cui non si può tornare indietro questo che stiamo toccando quindi stiamo tutti nella stessa barca più o meno anche se con ruoli diversi e a volte interessi che sembrano all'apparenza diversi ma io penso che invece vadano nella stessa direzione quindi teniamoci in contatto e vediamo di continuare così grazie ancora grazie 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 a tutti grazie a tutti